Se la notte scomparisse, è il quesito che il giovane fotografo pordenonese Mattia Balsamini si è posto nel pensare questa mostra, allestita in Galleria Bertoia e organizzata dal comune di Pordenone assieme a Cinema Zero, in occasione della sedicesima edizione del Pordenone Docks Fest. L'esposizione, curata dall'eclettica artista Matete Martini e valorizzata dai testi di Raffaele Panizza, presenta storie che intrecciano scienza, tecnologia, temi sociali e problematiche ambientali. L'intento è quello di sensibilizzare le persone sul delicato tema dell'inquinamento luminoso. Infatti, la sovrabbondanza di luce e la scomparsa del buio mettono a serio rischio gli equilibri naturali per l'uomo e l'ambiente. Da cosa nasce l'idea di questa mostra? Questa mostra nasce da una collaborazione con Raffaele Panizza, un giornalista amico e coautore di questo lavoro, con l'idea di raccontare l'ultimo baluardo dell'inquinamento ecologico ed è appunto l'inquinamento luminoso. È una mostra che è stata realizzata in collaborazione con Cinema Zero, con la storia della cultura di Pordenone ed è stata realizzata in collaborazione e anche qui in coautorialità con Matete Martini, la curatrice, che ha in qualche modo pensato a tutto l'allestimento che vediamo qui in mostra. È un lavoro che si articola tra i temi scientifici e anche più empatici nei confronti della natura e racconta la scomparsa del buio e i problemi ecologici al mondo animale, al mondo vegetale e al mondo umano che questo problema sta causando. È un lavoro che si snoda tramite fotografie stampate, fotografie incorniciate, fotografie solo allestite come delle prove di stampa, in maniera un po' più informale. Si articola con dei video, delle videotestimonianze e dei videoracconti appunto e moltissime tracce audio che accompagnano il visitatore. Occorre proteggere la notte perché è il cappello sotto il quale le creature, comprese noi, viviamo e non solo sogniamo. Ci sono implicazioni biologiche, naturalistiche, animalistiche di equilibrio generale molto importanti che riguardano la sua scomparsa in corso. Il titolo della mostra è Se la notte scomparisse. Come mai proprio questo titolo? È una traslazione del nostro Protegge Notte, che è il libro che abbiamo tratto da questo lavoro, un'indagine su cosa sta accadendo con la scomparsa della notte. Oltre al 90% della popolazione mondiale non ha accesso a un cielo puro, stellato. Il telescopio Galileo, il telescopio nazionale del nostro istituto di astrofisica non abbiamo potuto costruirlo in Italia, abbiamo dovuto metterlo alle isole Canarie perché non esiste in Italia un cielo sufficientemente puro e visibile per installarlo. La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile in Galleria Bertoglia fino al 30 aprile, da giovedì a domenica dalle 15 alle 19. Per informazioni www.comune.pordenone.it slash balsamini